Ciao, Mariella. Senti. Questa è un po' di fondata. A chi? A Cameria sta di là. Jair sta di là. E qua chi c'è? Senti, che è occupato il bagno? Eh no, perché se è chiuso di dentro vuol dire che... Ah, c'è il buon friendo. Ciao, vecchio. Un'altra volta, l'ho detto mille volte di non chiamarmi vecchio perché mi fa ingazzere, va bene? Non è l'età che conta. Ma che fa la tua generazione? Chi siete? Che volete? Ma perché? Tu chi sei? Che vuoi tu? Io sono nichilista. No, tu sei casinista. E la prossima volta che vieni dentro è il bagno di mia figlia. Permessami, capito? Tiè, tiè. Zagara. Vuoi dire qualcosa? Scusa. Meglio sorvolare. Però avverti il nichilista che mi ha nichilito tutto il bagno e ci vuole l'acido morinetico. Ok, baby. Oh, baby, baby. Baby. Come on, baby. Questo mi sta sulla punta delle soffoca, beh. Sulla punta. Andi, vai.